Sono Antonio Ragone, rappresento la Victoria British Sound di Sorretto. Ci occupiamo di integrazioni di sistemi, in particolar modo utilizziamo come Crestron sistemi di supervisori, quanti audio-video, illuminazione, condizionamento, sicurezza e tutto quello che può essere connesso all'integrazione di sistemi. Oggi siamo qui alla Crestron University, abbiamo accettato questo invito per apprendere sempre cose più nuove perché c'è sempre da imparare e anche per confrontarci con altre aziende per vedere un po' dove migliorarci e scambiare delle notizie tra di noi, per vedere un po' anche il mondo dell'integrazione di sistemi come si evolve, scoprire prodotti nuovi e migliorare nelle cose che facciamo per permettere ai clienti di usufruire di un sistema sempre migliore e affidabile. Per perdere il tempo dell'aggiornamento non lo ritengo una perda di tempo perché soprattutto in questo campo della tecnologia è un campo che oggi, se noi parliamo, si sta evolvendo e quindi cambiano molte tecnologie, la tecnologia si evolve sempre. È importante sempre aggiornarsi, fare i corsi di aggiornamento per poter dare sia al cliente sia un plus ultra rispetto ad altri sistemi, anche perché i sistemi con cui ci interfacciamo noi in particolare in modo che riesce a fare un sistema di fascia alta e dire al cliente perché la differenza è diversa tra un sistema ed un altro, se uno fa aggiornamenti e questo aggiornamento può espletare al cliente perché la differenza è diversa tra un sistema ed un altro e tutto lo deve essere nella qualità, nella fidabilità.